La cittadinanza svizzera, che differenza c'è con la residenza in Svizzera e quali sono le regole per ottenerla? Michele, il mio trasformamento in Svizzera, oggi parliamo di naturalizzazione, quindi di diventare cittadini svizzeri. Innanzitutto vedo ancora un po' di confusione fra essere cittadini svizzeri, quindi avere il passaporto svizzero, e quindi la nazionalità svizzera, e essere residente in Svizzera. Allora, chiunque può essere residente in un paese, basta avere un permesso di residenza, quindi si può avere qualsiasi tipo di nazionalità, per esempio io sono italiano, però vivo in Svizzera, quindi ho la residenza in Svizzera. Un cittadino svizzero invece è una persona che ha il passaporto svizzero, quindi ha la nazionalità svizzera e in quanto tale può vivere in Svizzera, chiaramente, quindi ha il diritto di vivere in Svizzera quanto gli pare, come io ho il diritto di vivere in Italia quanto gli pare, o anche in un altro paese, chiaramente. Qual è quindi il senso e la differenza fondamentale per chi vive in Svizzera rispetto a avere la residenza in Svizzera, ma non avere le nazionalità e quindi non essere cittadino svizzero, e avere la cittadinanza svizzera? La differenza fondamentale è relativa soprattutto a quello che sono i diritti civili, quindi il votare, quindi il poter partecipare attivamente a quello che è la vita politica. Poi ci sono anche dei doveri, perché c'è il servizio militare obbligatorio ancora in Svizzera per i cittadini di sesso maschile, ma questo magari ne parliamo poi in un altro video, e poi ci sono chiaramente dei benefici che sono relativi appunto a quello che è la stabilità, perché se si ha il passaporto svizzero si può praticamente vivere in Svizzera per sempre, anche se chi è naturalizzato può avere la naturalizzazione revocata se si fanno particolari reati e via dicendo, ma anche qui non è questo il video apposito. Però diciamo che la differenza fondamentale è proprio quella relativamente ai diritti civili, quindi il partecipare attivamente sia a quello che sono le votazioni, sia anche a quello che è la vita politica, quindi se uno vuole proprio candidarsi come politico locale o anche a livello federale. Quali sono le convenienze per richiedere la cittadinanza? Perché vale la pena di farlo? E' proprio perché se si è integrati all'interno di un paese, ovviamente si ha la volontà di partecipare anche a quello che sono le scelte della comunità, e visto che in Svizzera si vota anche quattro volte l'anno per il referendum e le iniziative popolari, quindi si può dire la propria rispetto ad argomenti importanti della vita sociale, si è votato sulla legge Covid, si è votato sulla legge della pubblicità del tabacco, si è votato su, molto spesso si vota sulle tasse, anche a livello locale si vota su tantissime decisioni, qui a Lugano sul polo sportivo, farlo o non farlo, quindi ci sono veramente tante cose su cui si può dire la propria e per cui vale la pena chiaramente avere il passaporto svizzero. Un'altra ragione che ho già accennato, di cui ho già accennato in un video che magari vi linko qui sopra, è quella relativa al fatto che in futuro non sappiamo che cosa succederà a livello fiscale internazionale, e quindi potrebbe anche essere che, rispetto, faccio le corna qui, voi non le vedete, tocco ferro, eccetera, ma può essere che magari a medio-lungo termine alcuni paesi, tra cui l'Italia, possano pensare a qualche cosa come la tassazione worldwide che hanno i cittadini statunitensi. Infatti i cittadini americani non hanno una tassazione solo sulla base di quello che è la propria residenza, io sono cittadino italiano residente in Svizzera, quindi pago le tasse unicamente in Svizzera, ma sono tassati in qualsiasi paese loro abitino, sono sempre tassati negli Stati Uniti in quanto cittadini americani. Quindi se questo succedesse, avere un secondo passaporto, e quello Svizzera è un passaporto importante, comunque anche per viaggiare e per poter tranquillamente risiedere in tantissimi paesi, può essere vantaggioso, perché uno poi può eventualmente rinunciare a quello italiano, se ne ha la necessità o il bisogno, e comunque ha un secondo passaporto importante già in tasca. Questa è una scelta comunque che a lungo termine io farei anche per questo motivo. Vale la pena appunto di iniziare subito, perché? Quali sono le regole sulla naturalizzazione? Sono ancora abbastanza complicate, soprattutto confrontate con quelle di alcuni paesi europei, per cui bastano due, tre, cinque anni di residenza, ma a volte non bisogna neanche sapere la lingua. In Svizzera è ancora abbastanza prezioso quella che è la concessione della cittadinanza svizzera, e quindi c'è un processo relativamente lungo, sia come attesa, perché ci sono questi dieci anni di residenza, poi in Svizzera, quindi nel paese, ci sono degli ulteriori requisiti a livello cantonale e comunale, per esempio in Ticino mi sembra che sia cinque anni di residenza nel cantone, e per esempio a Lugano tre anni nella città, di cui i due anni ultimi prima della richiesta di naturalizzazione. Quindi comunque vedete che ci sono un po' di paletti da rispettare. Fatta la domanda, dopo i dieci anni ovviamente non basta poi aspettare che vengano fatti i controlli, che sia tutto in regola. No, ci sono dei ulteriori requisiti. Il primo è quello che è la lingua, quindi la conoscenza della lingua. Chiaramente per un italiano che è madrelingua italiano non ci sarà un esame di lingua, tendenzialmente in canton Ticino, perché è la lingua che viene parlata quotidianamente, quindi viene dato per scontato che un italiano madrelingua sappia l'italiano in maniera fluente. Chiaramente in altri cantoni per gli italiani è un po' diverso, quindi se si è residenti e si chiede la naturalizzazione in un comune di un cantone francese o tedesco, chiaramente bisogna andare a fare un esame e dimostrare la conoscenza della propria lingua. A livello proprio di livello dipende anche lì dai cantoni. Sono i cantoni che richiedono lo scritto B1, l'orale B2 o viceversa, o tutte e due B1, quindi comunque c'è un approfondimento e una richiesta in questo senso abbastanza precisa. L'altra cosa che poi viene chiesta invece è l'esame relativamente alla cultura nazionale, quindi ci sono proprio dei corsi, mini corsi ovviamente, che si pagano, che vanno a dare delle nozioni a livello geografico, a livello della cultura, a livello della storia, quindi come è giusto che sia bisogna conoscere chiaramente il paese dove si risiede, e poi c'è un mini test finale al corso che serve proprio per valutare se effettivamente si ha la conoscenza necessaria per essere cittadino svizzero di quello che è proprio la storia, la tradizione e via dicendo. Quindi abbiamo detto dieci anni, abbiamo quello che appunto è la conoscenza della lingua, del posto in cui si abita, e poi la conoscenza di quello che sono le tradizioni e la cultura. Alla fine c'è, prima della concessione vera e propria della cittadinanza, c'è un colloquio finale che normalmente viene fatto con un comitato comunale, quindi proprio nella città in cui si abita, nel comune in cui si risiede, che valuta tutto quello che è stato il percorso nei dieci anni, quindi che non ci siano stati reati, che non ci siano stati problemi, che la persona sia ben integrata. Spesso viene chiesta anche un'introduzione rispetto a conoscenti, amici, proprio di nazionalità svizzera, quindi per capire che ci sia stata proprio un'integrazione a livello culturale e sociale, viene valutato il risultato dell'esame di lingua, se c'era da fare chiaramente, viene valutato il risultato dell'esame di cultura, se è stato superato bene, e poi possono essere poste ancora delle domande proprio su quello che è la propria storia, su quello che è il proprio lavoro, su quello che è la propria famiglia, quali sono le aspirazioni future, perché uno vuole diventare cittadino svizzero, quindi proprio delle domande vere e proprie in un colloquio, che può essere più o meno approfondito sulla base di quello che è poi il comune, appunto, e il comitato che uno si ritrova davanti, quindi magari ci sono dei comuni in cui è un po' più difficile questo tipo di colloquio, e altri un po' più semplice. Fatto questo, poi dopo qualche mese dal colloquio, tendenzialmente, a volte anche un annetto, c'è il risultato finale che, spero per voi, se lo farete in futuro, è la concessione vera e propria della cittadinanza svizzera, e quindi si può andare proprio a richiedere il passaporto svizzero, che è di un bel rosso vivace, ed essere finalmente cittadini svizzeri. Tutto questo processo ovviamente ha un costo, ha un costo che si aggira fra i 1500-1600 e i 2005, insomma dipende anche qui dai cantoni, perché ci sono delle tasse federali, delle tasse cantonali, delle tasse comunali, quindi può comunque dipendere molto da una zona all'altra della Svizzera, però comunque è un costo che è a persona e quindi va messo a budget. Vi dico, vale comunque assolutamente la pena, perché è una cifra, va bene, che per qualcuno potrebbe essere anche importante nell'economia domestica, ma diciamo, per il mio pubblico sicuramente è una cifra che vale assolutamente la pena di spendere per avere un passaporto così importante, soprattutto un passaporto del paese che vi ha ospitati per dieci anni, quindi che può diventare veramente il vostro paese per il futuro. Spero che questo video vi sia stato utile, noi ci vediamo nel prossimo video.